Un crocevia importante per la salvezza sul campo di una diretta concorrente, una sfida da affrontare con fiducia dopo la vittoria con il Catania e la risoluzione della crisi che ha portato alle dimissioni del tecnico ginestre all'esonero del DS Quistelli. A Rieti, nella gara chiave della giornata numero 17 del campionato di Serie C, il Biceglie si presenterà con Antonio Bruno in panchina e con l'esperienza di Beppe Materazzi, appena arrivato a dirigere l'area tecnica. Al cospetto di salite e compagni ci sarà una squadra, quella reatina, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, che l'hanno fatta scivolare in quart'ultima posizione a meno uno proprio dal Biceglie, chiamato quindi a respingerne l'assalto. Vincere per allontanare la zona play-out sarà l'obiettivo anche della Virtus Francavilla che ospiterà al Fanuzzi il fanalino di coda paganese. Per la squadra di Trocini la gara contro i Campani, unica squadra ancora secco di vittoria in questa stagione, sarà l'occasione per invertire la rotta e tornare e riassaporare quei tre punti che mancano ormai dal 10 novembre. Ben altra situazione di classifica invece è quella che sta vivendo il Monopoli. I gabbiani nel turno infrastimanale contro la Vibonese hanno centrato la terza vittoria consecutiva utile per rissarsi in sesta posizione a soli tre punti di distanza dal terzetto composto da Catania, Catanzaro e Trapani. Domenica alle 16.30 sul terreno della Cavese la squadra di Peppe Scienza andrà a sfidare un avversario in serie utile da cinque gare ed approdato in zona playoff dopo lo 0-3 di mercoledì sul campo della Regina. Per i bianco-verdi dunque un altro banco di prova importante sulla strada verso la conquista di un piazzamento tra le magnifiche 10.